Parcheggiatore abusivi nei guai emessi due provvedimenti di DASPO urbano. A seguito di specifici servizi predisposti dalla questura di Siracusa in sinergia con il personale della Polizia Municipale, finalizzato il monitoraggio delle attività illegali commesse dai parcheggiatori abusivi nelle aree cittadine ove gli stessi sono presenti, attuando richieste dal volto a moleste e insistenti, e pretendendo denaro da automobilisti e dai numerosi turisti che affollano i siti archeologici e storici della città, il questore di Siracusa Roberto Pellicone ha emesso due DASPO urbani nei confronti di altrettanti soggetti, due uomini rispettivamente di 43 e di 40 anni, con di viete di accedere per un periodo di un anno e sei mesi all'area del parcheggio denominato Molo Sant'Antonio e alle vie limitrofe. I due sono stati sorpresi più volte da agenti della Polizia Municipale di Siracusa ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, regolamentando la sosta e costruendo i veicoli dietro il pagamento di un compenso.